Ecco, vedete come l'immagine si è sgranata, mossa, ma la musica è chiara e emozionante? Questo funziona, dai che siamo tutti lì, prendilo! Ciao, benvenuti sul mio canale, sono Simo Riccio, creator su YouTube dove sperimento come uscire un pochino dalla propria comfort zone. Nel farlo ho testato diversi format, ho imparato a montare, ho comprato tutta l'attrezzatura necessaria, ma c'è ancora molta strada per tenere le persone incollate allo schermo e far sì che ogni secondo sia di intrattenimento. E dato che buona parte della mia community è, come me, creatore di contenuti, ho deciso di analizzare i migliori YouTuber italiani per carpire cosa serve per fare video veramente fighi. Quindi tenetevi pronti, iniziamo! Per il primissimo episodio ho scelto questo video di Amaloru perché per me è il miglior contenuto del 2020 a livello di storia e di editing. Editare un filmato si pensa che sia la parte finale, quella noiosa, e qui c'è un pochino di confusione. Perché per me editare uguale riuscire a intrattenere, visto che ogni contenuto sul web compete con tutti gli altri video, ma compete anche con le app che avete sul vostro cellulare e con tutti i messaggini che ricevete. Quindi in questo format non guarderemo troppo alla parte tecnica, con le transizioni, eccetera, quanto alla parte psicologica, per cercare di capire perché un filmato ci piace e ci fa rimanere incollati. Per iniziare vorrei analizzare quello che per me è il migliore esempio per quanto riguarda l'accoppiata storytelling e coinvolgimento emotivo. La vendetta va servita fredda. Ok, sette secondi e si vede già quello che promette la copertina. Nei primi secondi subito fa vedere che la copertina e il titolo non sono clickbait. Voglio chiedervi quante volte siete stati scottati da copertine clickbait. Quando questo succede si perde la connessione tra spettatori e creator. Quando invece la promessa è mantenuta, crederai a quel creator. Ecco ora, questa inquadratura è letteralmente la copertina. Com'è che si dice in questi casi? La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ok, oltre alla copertina adesso abbiamo anche il titolo del video. Possiamo essere stracerti che non si tratta di clickbait. Infatti la scritta messa qui fa capire che dopo 34 secondi è finita l'anteprima, che le promesse per le quali abbiamo cliccato sono state mantenute e può iniziare il vero video. Prego. Serviva solo un'esca e serviva poterla tracciare. In poche parole serviva Andrea Galeazzi che mi installasse dei GPS. Ok, come primo ospite di questo video non è che viene il cugino nerd, ma Andrea Galeazzi. Oltre un milione di iscritti su YouTube. Nello zaino, oltre al portatile, ho inserito altri oggetti per non destare sospetti. Ok, interessante seconda volta che Malloro dà una sorta di titolo a quello che andremo a vedere. Avevamo la scritta 24 ore prima e ora abbiamo il giorno dello scasso. Questo montaggio ci fa capire che un nuovo capitolo sta per iniziare. E' come se non bastasse a far capire che siamo appunti in un altro capitolo del video. Ascoltate come taglia in maniera netta la musica. Non destare sospetti. Bam! Quando ci sono questi tagli è come se la band che sta suonando con la musica che stiamo sentendo smettesse di colpo, come a dire... Che diavolo sta succedendo qua? Tagliare la musica di netto è un modo potentissimo per rialzare l'attenzione. Per procedere serviva supporto legale. Me l'ha dato Angelo Greco, il miglior avvocato presente su YouTube. Ok, al minuto 1 Andrea Galeazzi, al minuto 2 Angelo Greco, altro YouTuber avvocato. Tra l'altro non credo Emma abbia preso un pezzo del video. Credo sia proprio una chiamata su FaceTime e lui parla esattamente come nei suoi video YouTube. Fantastico. Dove lo trovo lo zainetto per consegnare le pizze? Beh, avere un amico pizzaiolo torna sempre utile. Ed ecco l'effetto telefilm. Tutti siamo nati e cresciuti con i telefilm e ne abbiamo ormai interiorizzato le dinamiche. Personaggi come il suo amico pizzaiolo, che abbiamo visto che purtroppo ha chiuso la pizzeria, qui ritorna e scopriamo che fa il rider. Quindi nei video di Emma abbiamo personaggi secondari che ogni tanto rifanno la loro comparsa e scopriamo qualcosa su di loro e ci emozioniamo nel vederne i cambiamenti. Quasi come se fossero nostri amici. Bellissimo e un saluto a Giuliano. Sentite qui la musica. Pensate questa scena con qualsiasi altra musica. Non avrebbe sicuramente funzionato così. La buona notizia è che da quel momento era tutto sotto controllo. Ok, nuovo capitolo del film. Schermo nero e cambio di musica. Anche se stavolta non c'è la scritta. Io forse ne avrei messa una. Ok, Emma finora ha sempre tenuto il ritmo alto con la musica, con la suspense. Sono quattro minuti finali. E adesso finalmente possiamo rifiatare un attimo. Non possiamo stare 12 minuti con un unico ritmo altissimo. E quindi... Slow down. Ora, mentre tutti aspettiamo di sapere cosa succede nella storia, lui mette oltre un minuto di digressione sul perché ha proprio quell'auto. Quindi, oltre a essere in tema, questo ci svela piccoli pezzetti della sua vita, come il suo passato da regista, eccetera. E così, video dopo video, iniziamo a conoscerlo sempre di più. E come nei film o nei libri, vivremo con sempre maggior partecipazione tutto quello che gli succederà. Pochi mesi dopo l'acquisto ho deciso di andare a vivere a Milano e scopro che lasciare l'auto parcheggiata in strada non è proprio una scelta intelligente. Quindi, dormiamo un mondo. Schermo nero più musica che si ferma, fine di un altro piccolo capitolo. Ok, si sta spostando. Ok, alza di nuovo il ritmo qui con questa musica. Dovevo capire dove andasse a finire il computer. Ah, questa musica qui è bellissima e l'ho riconosciuta. È una canzone dei Wolf Mother. Tra l'altro, apro una piccola parentesi sul copyright e su tutti quelli che si chiedono come si fa a usare una canzone famosa in un video YouTube. A parte che, spero che tu non ti sia perso il mio video dove vado a fare tutti i test per capire dopo quanti secondi l'algoritmo capisce che stai usando proprio quella canzone. Ma anche se non l'hai visto, qui ti voglio dire che le canzoni famose su YouTube si possono usare anche se possono succedere due cose. Quella certa è che tu non potrai monetizzare quel video. Quindi le pubblicità che vedi prima, durante o dopo non genereranno delle entrate per chi ha caricato e creato tutto quel video, ma andranno agli artisti. La seconda e quella più grave è che le canzoni estremamente famose, come potrebbero essere quelle degli ACDC, creano addirittura un blocco del video nella maggior parte delle nazioni. Infatti, Ema Loro usa delle canzoni famose, ma non quelle della Top Ten, perché causerebbero appunto questo blocco. Dunque Emanuele, puoi certamente inserire un GPS e un altro amico spia all'interno delle tue... Oh, Angelo Greco per me è un genio. Voglio già fare un episodio di questo format sui suoi video. L'unica volta che ho provato a pescare per me è stata una noia mortale, ma stavolta dopo tre lunghi giorni d'attesa... Musica e video. Il video può anche non essere in 4K, ogni tanto può saltare l'immagine, ma l'audio deve essere chiaro e una canzone scatena sempre emozioni. E questo Ema Loro lo sa. Io non so per quanto può aver camminato. Qui mette un classicone dei film di spionaggio. Musica incalzante e loro che seguono un GPS. Ok, 10 minuti e finalmente tutti gli elementi che abbiamo già visto sono messi insieme. Il travestimento, l'amico e la musica. Ema sa che siamo pronti a scoprire come va a finire. Ecco, vedete come l'immagine si è sgranata, mossa, ma la musica è chiara e emozionante. Questo funziona, dai che siamo tutti lì. Prendilo! Ok, schermo nero. RDS. What? E il nostro finale? Questa scelta di montaggio è pazzesca. Qui è dove se qualcuno vi dice che è pronto in tavola, voi non lo sentite. Siete dentro lo schermo. Questo video non poteva finire come se fossi Brumotti di Striscia Notizia e non potevo fare nemmeno un'incursione come se fossi Le Iene col faretto puntato. Ed ecco qui, il dilemma che ha Ema Loro è quello che avremmo avuto tutti. Ecco il ladro. E adesso cosa faccio? Vado lì e cosa gli dico? Questa è una delle regole base dello storytelling. Usare sentimenti universali. Cose che provano tutti. Qui sentiamo che il video parla a noi e parla di noi. Sei anche tu lì a fare quella scelta. Fai occhio per occhio all'infinito e il mondo prima o poi diventa cerco. Bravissimo. Bene, siamo giunti alla fine di questo primo episodio. Spero che questo format di analisi vi sia piaciuto. Questo ripeto che per me e per un altro milioncino di persone è stato uno dei migliori video del 2020. Non vedo l'ora di scoprire quale sarà il migliore del 2021. Magari date un occhio ai miei, visto che non si sa mai, no? Ma soprattutto commentate per farmi sapere di quale creator vorreste vedere un'analisi così con i dietro le quinte. Peace e alla prossima! Ciao!